Buonasera a tutti, un ringraziamento a Paolo per l'invito che giunge sempre gradito e complimenti per l'organizzazione. Con Paolo un anno e mezzo fa abbiamo costituito insieme il comitato di Nasar con No Grazie, perché federagenti e in generale agenti commercio erano già inglobati in questa contribuzione non volontaria, bensì obbligatoria e gli agenti immobiliari invece cercavano in ogni modo di farne a meno, giustamente aggiungo io. Diciamo che questo comitato ha avuto il merito in un anno e mezzo di lavoro di costringere l'Ena Sarco a indire le elezioni per il rinnovo degli organi di governance, ovvero sia del CDA, in quanto per 70 anni l'Ena Sarco invece è stata guidata da persone nominate dall'alto dai sindacati, aggiungo io, nella peggiore tradizione sindacale italiana. Ebbene siamo riusciti a far indire le elezioni. Vedete, in un Paese normale gli iscritti a questo ente potrebbero pensare oggi finalmente di poter eleggere in modo democratico e volontario i propri rappresentanti. Però evidentemente l'Italia non è ancora un Paese normale. Se è vero come è vero che in realtà un regolamento elettorale iniquo, assolutamente antidemocratico e illegittimo, purtroppo avvallato dal Ministero del Lavoro, e qui lo dico con disappunto, vuole in pratica che rimanga sempre lo stesso status quo e che i vertici di Enasarco non possano vederci partecipi. Questo per un regolamento elettorale che di fatto fa in modo che chi già siede oggi ancora nel CDA da nominato, con i pessimi risultati che hanno portato la Commissione parlamentare di vigilanza chiederne il commissariamento, dice un regolamento elettorale che fa sì che queste persone che ancora siedono nel CDA possano presentarsi alle elezioni di diritto. Mentre invece le associazioni fuori dal coro, guarda caso ad esempio la Federagenti, per partecipare debbano produrre, per partecipare alle elezioni intendo dire, debbano produrre in 14 giorni 7.000 firme autenticate da notai per poter partecipare. Dopodiché ci sarebbero le elezioni. Allora vedete bene che il messaggio chiaro e forte è non vi vogliamo. Ed è altrettanto abbastanza sintomatica l'applicazione del principio gattopardesco del tutto cambi affinché non cambi nulla. Questo è il messaggio che ci è arrivato. Allora, e qui concludo questo brevissimo intervento, la mia presenza qui oggi sta a testimoniare il rinnovato impegno della mia associazione, spero sempre di andare di pari passo con Fiaip e con Paolo Righi che stimo tantissimo, dicevo un rinnovato impegno per fare in modo che queste elezioni non siano una burla e non siano una buffonata, ma siano veramente l'occasione giusta per rendere la gestione dell'Enasarco finalmente trasparente e per fare in modo che in un futuro magari non troppo lontano questo ente possa essere considerato un ente trasparente, un ente efficiente, un ente conveniente anche per quelle professionalità al di là degli agenti di commercio che magari stanno cercando un fondo previdenziale dove mettere i propri risparmi previdenziali senza avere grosse preoccupazioni. Ecco, speriamo che in un futuro non troppo lontano Enasarco possa diventare questo, certamente ad oggi non ci sono le condizioni. Grazie e buona continuazione. Grazie. Grazie.